L'hanno voluta chiamare musica senza virus. La scuola media statale a indirizzo musicale Luigi Trombini di Tirano, nell'impossibilità di organizzare in maniera pubblica il concerto di fine anno che avrebbe dovuto svolgersi proprio oggi, ha deciso di proporre in un video già diffuso via social, un'interpretazione canora e musicale del celebre brano Alleluia del cantautore canadese Leonard Cohen. La voce già applaudita in diverse esibizioni è quella del giovane talento Riccardo Nani, prossimo ad iniziare a settembre il liceo musicale al Pinchetti, accompagnato da 5 strumentisti, 5 insegnanti della scuola, Andrea Poetini, violino, Antonello Flammia, coordinatore dell'indirizzo al clarinetto, Alessandro Ruggeri al flauto che si è occupato anche del montaggio video, Marilena Negri al pianoforte, Matteo Bertolina Pianoforte e arrangiamenti Tiede you to her kitchen chair She broke your front and she cut your hair And from your lips she drew the Alleluia Il video che vede eccezionalmente esibirsi cinque docenti con un allievo non è il solo che la scuola ha preparato, uno è stato fatto anche con i ragazzi del corso di violino e clarinetto. In preparazione anche quello dell'intera orchestra della scuola, forte di ben 78 elementi, un omaggio indiretto alla vocazione musicale dell'intera città di Tirano attestata dall'istituzione il prossimo anno del liceo musicale. Commozione e soddisfazione da parte della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Tirano, Luisa Porta. Teniamo l'orchestra ancor più che i singoli, dice, proprio come dimostrazione del grande lavoro collettivo dell'indirizzo musicale. Con lo stop alle lezioni in classe, dichiara, abbiamo subito attivato la didattica a distanza. L'impegno degli insegnanti e degli alunni è stato davvero lodevole, arrivando a potenziare il programma delle lezioni. Alleluia! 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 Alleluia!